Lavoro alle poli distillerie da più di 20 anni. Pensate che il colloquio l'ho fatto nel giorno del mio diciannovesimo compleanno. Sono 30 anni che lavoro alle poli distillerie. Sono circa 23 anni. Sono 20 anni che sono alla poli distillerie. Quando ho cominciato era una cosa molto più a carattere familiare, eravamo in pochi. Una volta forse era proprio più piccolino, adesso è diventato più grande, però siamo comunque, secondo me, una bella famiglia. La possibilità di vedere crescere l'azienda e trasformarsi da una piccola crisalide a una farfalla. Ho visto crescere ogni anno la produzione, il personale e le strutture in cui lavoriamo. Cambiamenti qui non si possono accusare, bisogna surfarli. Ogni giorno c'è una sfida nuova, c'è una situazione nuova da affrontare. Con entusiasmo, mantenendo un spirito proattivo e aggiungerei anche impavido. Qui c'è la possibilità di lavorare bene e di poter crescere in un ambiente sano sotto tutti i punti di vista. Andare sempre oltre e imparare sempre cose nuove. La fiducia che mi hanno dato i miei titolari, tutta la famiglia Poli, che hanno creduto in me in tutto questo tempo. È una possibilità importante soprattutto perché significa che credevano e tuttora credono in me. In questi 16 anni sicuramente c'è stato un buon incremento di quello che era la mia professionalità e quindi mi sento orgoglioso di essere qui. 20 anni in distilleria sono tanti, ma non per uno che sente lo spirito nelle vene. Essendo io nativo di Schiavon, quando venivo da piccolo, mi ricordo che la signora Teresa mi dava sempre delle piccole bottiglie di Mignon, di Vogue. E ritrovarmi qui dopo tanti anni è una cosa grande. A proposito di famiglia, posso dire che io ho visto nascere e crescere la quinta generazione. Ho visto nascere questi piccolini, che adesso ormai sono più alti di me, e vederli cambiare giorno per giorno sicuramente per me è bello, è ed è stato molto bello.